Buongiorno bambini, come va? Spero bene. Adesso vi leggo la storia di un bambino un po' monello che fa tanti capricci. Il suo nome è Giovannino Mai Contento, ascoltate bene. Un giorno Giovannino va al parco con il nonno e vede un venditore di palloncini. Il nonno gliene compra uno rosso. Ne voglio degli altri, strilla Giovannino. Il nonno, per accontentarlo, gli compra un palloncino giallo e uno blu. Sono pochi, ne voglio ancora. Ancora una volta il nonno lo accontenta e gli compra altri palloncini, uno rosa, uno verde, uno azzurro, un altro marrone, poi viola, bianco, arancio e grigio. Ma Giovannino strilla, ne voglio di più, di più. Una signora misteriosa osserva la scena, schiocca le dita ed ecco comparire tra le sue mani un mazzo enorme di palloncini che dà Giovannino. Giovannino felice li prende, ma si sente sollevare in alto. I palloncini lo fanno volare via. Spaventato li lascia subito andare e li vede allontanarsi nel cielo. Una bella lezione per questo bambino che non si accontenta mai. Non trovate bimbi? Grazie. Grazie.